Per quel che riguarda il più che perfetto di SUM, la formazione è analoga. Dal paradigma di SUM, SUM ES FUI ES, isolo la voce che corrisponde all'indicativo perfetto, stacco la I e ottengo il tema del perfetto. Al tema del perfetto, FU, aggiungo anche in questo caso l'imperfetto indicativo di SUM e avrò quindi FUERAM, io ero stato, FUERAS, tu eri stato, FUERAT, egli era stato, FUERAMUS, noi eravamo stati, FUERATIS, voi eravate stati, FUERANT, essi erano stati.